buona domenica a tutti voi amici e benvenuti a l'italiano in podcast ricomincia il nostro appuntamento quotidiano ricomincia dopo la pausa del sabato ricomincia come sempre la domenica sera la mia domenica sera e quindi benvenuti a tutti voi a questo nuovo episodio la puntata numero 312 di domenica 19 settembre 2021 come sempre la voce che ascoltate è quella di paolo cioè la mia e come sempre per me è un gran piacere ritornare dopo la pausa del sabato e raccontarvi un po il mio fine settimana quello che è accaduto in questi due giorni sempre con l'idea con lo scopo di provare ad aiutare tutti voi con la lingua italiana quindi provare a migliorare la vostra capacità di ascolto e di comprensione e per fare questo quindi usare le racconto delle mie giornate e anche il racconto delle principali notizie di informazione italiana il podcast quindi come sempre si divide in queste due parti principali e poi alla fine di solito parliamo un po di covid e di piccole curiosità come anniversari compleanni di personaggi famosi e infine la forisma quindi tutto questo esiste con questo preciso compito questa precisa missione quella di allenare le vostre orecchie ad ascoltare un madrelingua che parla in questo caso io un madrelingua che prova a andare a una velocità abbastanza normale e a utilizzare anche un vocabolario ed le stesse espressioni utili alla al vostro studio della mia lingua ci sono parti in cui ripeto spesso le stesse le stesse espressioni o le stesse parole anche questo ovviamente ha uno scopo ogni tanto le cambio ma ripetere molto spesso la stessa espressione le stesse parole è utile a fissarle bene nella mente ma comunque ormai la mia missione chiara quindi molti di voi la conoscono perfettamente per i nuovi amici dico solo provate per qualche giorno non costa niente il podcast è assolutamente gratis quindi potete tranquillamente provare per qualche giorno e se vi piace continuare se non vi piace smettere ma se vi piace vi prego di fare un po di pubblicità di consigliare il podcast ad altre persone che studiano l'italiano magari farlo ascoltare a qualche vostro insegnante perché così la comunità cresce la le persone che ascoltano il podcast aumentano io sono più contento soprattutto e poi se aumentano le persone chiaramente aumenta la volontà di andare avanti e di continuare a registrare ogni giorno ad eccezione nel sabato per molto molto tempo ancora bene ci siamo lasciati la sera di un venerdì 17 anche se poi quell'episodio è finito il 18 ma come sapete il venerdì 17 è un giorno delicato per gli italiani è andato bene non è andato fatto male non mi posso lamentare e soprattutto il giorno dopo è iniziato un bellissimo fine settimana molto buono davvero la mattina presto sono uscito per la mia corsa del sabato sabato era un giorno in cui c'era una piccola festa di famiglia quindi sapevo di dover mangiare abbastanza per questo correre un po più a lungo non è stato un problema è stato come fare spazio nel mio corpo per ricevere più cibo del solito una doppia motivazione per fare una corsa più lunga e quindi intorno alle sette e mezza ho iniziato la mia corsa sono sono uscito di casa ho percorso la strada della mia della mia casa quella quelle poche decine di metri sono circa mi sembra 150 metri una cosa del genere ma non sono sicuro però ho percorso questo questo piccolo tratto di strada come sempre un po' camminando un po' correndo per capire la condizione delle mie gambe tutto mi sembrava buono per una corsa lunga e però quando sono arrivato in fondo alla strada ho preso una decisione all'improvviso non ci avevo pensato prima ho deciso di cambiare il mio percorso praticamente dopo anni forse è la prima volta che faccio un percorso diverso e quindi invece di dirigermi cioè di prendere la direzione del mio lungomare ho preso la direzione di un piccolo paese vicino al mio quindi sono restato sulla sulla strada principale e ho iniziato a correre per arrivare in questo piccolo paesino anche con una spiaggia insomma anche questo paesino a una piccola spiaggia un lungomare di circa un chilometro poco più di un chilometro ma c'è una una parte di strada della statale appia una strada molto lunga che attraversa una grande parte dell'italia del sud un pezzo di questa strada è necessario per arrivare a questo paese non so bene perché ho cambiato beh in realtà avevo voglia di un percorso diverso per fare una distanza più lunga per fare 15 chilometri devo ripetere due volte lo stesso tragitto del mio lungomare quindi volevo un percorso più lungo meno monotono diciamo quindi con un po di paesaggio diverso e poi perché questo paesino più piccolo è in realtà un luogo in cui ho passato molto tempo della mia giovinezza tutti i miei amici più importanti quasi tutti sono in questo luogo in questo piccolo paese ho fatto lavoretti estivi mentre studiavo e in questo piccolo paese ho molti molti ricordi quindi ho pensato di fare questa piccola corsa per vedere un po' com'è la situazione in questo posto era da molto che non ci andavo quindi ero curioso un po' di rivedere il posto e anche perché nella stessa zona c'è il ristorante dove dovevo mangiare con la mia famiglia volevo fare un piccolo giro anche lì e vedere com'è cambiata la situazione del posto questo ristorante si trova in una zona protetta è un parco un parco regionale su una piccola su due piccole colline promontori si chiamano che sono proprio sul mare quindi c'è una grande area di bosco protetto e in quest'area ci sono anche delle rovine romane quindi c'è un piccolo porticciolo un piccolo porto romano molto piccolo e anche alcuni resti di un tempio e di forse alcune case alcune ville romane non molto però è sempre molto interessante bene quindi ho iniziato questa corsa tutto andava molto bene ho sempre un piccolo fastidio al piede destro vicino alle dita nel piede destro è un fastidio non un dolore è come se i tendini in quella zona diventassero più rigidi però con la corsa di solito questo scompare dopo un po di chilometri comunque un po monotono la parte del percorso in cui ho attraversato la statale appia questa strada principale per raggiungere questo piccolo paesino ma poi tutto il percorso era piacevole quindi sono ho fatto circa tre chilometri per arrivare in questo paesino sono sceso sul lungomare di questa piccola piccolo grande quartiere diciamo e ho percorso il lungomare all'andata e al ritorno e poi ho ripreso la strada di casa ma ho fatto due piccole deviazioni una per entrare in un campeggio in cui ho lavorato per molti anni non c'era nessuno all'ingresso quindi nessuno mi ha controllato però conosco molto bene questo posto la proprietaria insomma diciamo che sono di famiglia in questo posto e quindi ho fatto una parte della mia corsa in questo luogo in cui ho speso ho passato molti anni davvero della mia gioventù con molto divertimento anche e poi sono ritornato sulla strada di casa ho fatto un'altra deviazione proprio nella direzione di questo piccolo parco protetto su queste colline su questi promontori sul mare sono arrivato fino a questo porticciolo romano lungo la strada c'è il ristorante dove dovevo andare a mangiare ma questo mi interessava di meno era solo l'idea che mi è venuta pensando al ristorante di correre verso questo questo questa area molto carina in cui ci sono delle zone per fare picnic c'è ci sono zone per fare percorsi da da fare a piedi o con la bicicletta non è un'area grandissima ma è molto molto carina davvero e in fondo alla strada mi sono fermato appunto in questo porticciolo c'è un sentiero che inizia da questo porticciolo sale verso l'alto su una delle due colline quella più a nord e in questa collina su questa collina c'è ci sono i resti di questo tempio e di alcune abitazioni il tempio è dedicato al dio giano un dio con due facce infatti si chiama giano pifronte proprio perché ha due due facce e questo dio dà il nome a questa località che si chiama infatti gianola non sono arrivato non sono andato lungo questo sentiero perché la mia corsa insomma non lo permetteva sono semplicemente arrivato al porticciolo e sono tornato indietro ho ripreso la strada di casa e poi ho completato la mia corsa come sempre nella parte finale del mio lungomare quindi il punto di arrivo è come spesso accade è stato come spesso accade la mia scogliera preferita quindi un percorso di esattamente 15 chilometri molto preciso molto buono per il futuro è un percorso che mi ha divertito ci sono salite e discese non è tutto in pianura con le discese ho qualche problema al ginocchio perché l'impatto è un po più duro di solito e quindi questo può essere un problema per il ginocchio ma tutto è andato bene le mie gambe sono in gran forma voglio toccare legno ferro quello che volete quando tutto va bene ho sempre un po paura perché prima o poi qualcosa rovina tutto spero davvero di avere di continuare a lungo questo periodo positivo con la mia forma con la mia buona forma fisica ci sono alcuni piccoli problemi da risolvere ma devo dire di essere in una buona forma fisica adesso beh quindi ho chiuso questa corsa in circa un minuto e 32 un'ora e 32 minuti scusate un buon tempo e sono tornato a casa mia un po di riposo una una bella doccia prima ovviamente e poi è arrivata l'ora di uscire per andare a pranzo insomma con tutta la mia famiglia l'occasione era il compleanno di mia madre come vi ho spiegato mia madre ha compiuto 87 anni giovedì scorso ma per questioni pratiche abbiamo spostato il festeggiamento a sabato questo ristorante che abbiamo scelto è un ristorante molto popolare nella mia zona si mangia molto bene non è troppo costoso ma è ancora un ottimo ristorante e infatti abbiamo mangiato molto bene un cambiamento col passato è forse la quantità di cibo per ogni portata che è un po più piccola del passato ma sicuramente la qualità è qualcosa che conta di più ho mangiato abbastanza quindi non è un problema e sì abbiamo mangiato tutto ogni portata era a base di pesce a parte il dolce tutto il resto aveva del pesce abbiamo iniziato con un antipasto ovviamente con un antipasto di mare poi alcuni primi sempre a base di pesce io ne ho mangiati due questo accade spesso non ho vergogna non ho paura di chiedere di portare altre cose se ho fame e se mi piace il piatto più interessante che ho mangiato tutto era buono ma uno dei piatti che mi ha colpito di più è questa carbonara di tonno in pratica è una carbonara sì praticamente una carbonara quindi con l'uovo con il pepe questi spaghetti e però al posto del guanciale c'era il tonno c'erano dei pezzi di tonno cotto e una tartare di tonno crudo vi posso assicurare che era molto buono ed è un piatto che mangerò proverò a fare anche a casa mia il secondo principale era a base di un di un pesce molto molto popolare molto buono anche che si chiama pezzonia era davvero molto molto buono molto morbido saporito nonostante la grandezza dei pesci erano due ma noi eravamo in 12 quindi non era troppo cibo quindi il pranzo è durato forse fatemi pensare siamo stati quattro ore a tavola ma abbiamo mangiato molto tranquilla meno meno di quattro ore forse meno si più o meno quattro ore si abbiamo mangiato molto tranquillamente quindi con il tempo per chiacchierare bere un bicchiere di vino in modo molto rilassato tutto è stato molto divertente molto allegro molto tranquillo insomma una bella una bella giornata in famiglia sono molto contento davvero per tutto il tempo ho mandato foto di portate a tavola a qualche amico qualche amica e proprio per fare un po di invidia a loro ma questa non è una cosa che faccio sempre ma sabato avevo voglia di condividere questo buon pranzo e quindi ho scattato diverse foto di tutte le portate alla fine ovviamente una bella torta ma una torta un po particolare perché adatta alle persone che hanno la celiachia uno di noi uno della nostra della mia famiglia ha questo problema quindi non abbiamo scelto un dolce molto complesso o sofisticato ma piuttosto abbiamo fatto fare questo dolce adatto a tutti quindi senza glutine e ovviamente questo riduce le opzioni sulla possibilità di scelta tra i dolci è un dolce molto semplice in realtà ma questo non è importante era più importante ovviamente mangiare tutti la stessa cosa beh poi ovviamente abbiamo fatto diverse foto fatto qualche filmato è sempre una giornata speciale la mia famiglia è abituata a festeggiare i compleanni dei miei genitori anche quando era vivo mio padre lo facevamo sempre negli ultimi anni purtroppo negli ultimi due anni abbiamo dovuto rinunciare a questa possibilità ma adesso finalmente abbiamo ricominciato quindi come ho detto una bella giornata davvero sono molto contento alla fine del pranzo sono tornato al porticciolo romano di cui vi ho parlato per una passeggiata ho fatto qualche foto qualche video ho fatto una parte del sentiero per raggiungere le rovine romane ma poi ho lasciato stare non ero vestito nel modo giusto non ero comodo tornerò tornerò in questo posto e probabilmente farò anche un episodio del podcast da questo posto è proprio questa l'idea quindi ho fatto qualche foto e qualche video per come test diciamo come prova proprio per con questa idea e niente poi sono ritornato a casa mi sono rilassato un po sono uscito per una nuova passeggiata sul lungomare per digerire quindi è meglio il pranzo il pranzo più o meno di nove portate più o meno con il dolce compreso sì 8 o 9 non ricordo bene e poi la sera molto rilassante a casa mi sono riposato e ho fatto una bella chiacchierata non di lavoro non come lezione assolutamente ma una chiacchierata di piacere ho guardato qualcosa su un famoso canale di streaming e poi finalmente riposo un po più di riposo un po più di ore di sonno per questo fine settimana per fortuna domenica questa mattina iniziata presto anche e ieri non ho fatto nessun bagno al mare perché avevo corso e l'acqua il mare era un po agitato quindi questa mattina ho recuperato sono uscito per andare al mare sono restato circa un'ora l'acqua era stupenda non c'era nessuno a fare il bagno solo io purtroppo avevo no beh purtroppo no perché è un appuntamento che mi piace insomma una lezione che amo fare ma la giornata era molto bella e davvero era un piacere stare al mare ma come ho detto non mi è dispiaciuto affatto fare questa conversazione perché è una conversazione piacevole della settimana quindi finora di pranzo sono stato impegnato in questo modo prima al mare poi una lezione un po più lunga delle altre del solito e poi è domenica quindi c'è un rito preciso che quello di pranzare con mia madre anche se abbiamo pranzato ieri insieme anche oggi ho pranzato con lei ma un pranzo molto semplice niente di particolare pomeriggio di riposo di rilassamento di relax fino alla pomeriggio alla sera voglio dire scusate con un paio di lezioni tra una lezione un'altra una breve passeggiata di circa 30 minuti non sono uscito molto oggi quasi per niente e poi ancora riposo una chiacchierata anche con una persona con cui lavoro con l'italiano da molto tempo e infine adesso è arrivato il momento del podcast un fine settimana come vi ho detto molto piacevole e rilassante piacevole rilassante rilassato divertente soprattutto sabato e sabato sera è stato molto molto una giornata molto bella molto molto serena 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 è così questa è la parola giusta serena e divertente anche posso dire davvero sì che questo fine settimana mi è piaciuto uno dei più belli negli ultimi tempi devo dire e speriamo che in futuro sia sempre più spesso così ho questa sensazione e spero che continui in questo modo non ho prodotto niente per il blog sono pigro non ho molte molta iniziativa in questo periodo non lo sto facendo molto lavoro col blog ma spero che questa settimana tutto ricominci con un ritmo migliore tutto qui per quanto riguarda me non voglio aggiungere altro vi voglio dare solo qualche breve notizia e poi saluti e infine un po di riposo parliamo oggi praticamente solo di sport comincio dal moto gp che è un sport motoristico che a me piace molto come vi ho detto a oggi nel pomeriggio ho guardato un documentario su michael schumacher documentario molto popolare devo dire che mi ha mi ha colpito molto è un documentario molto buono un po triste c'è molta malinconia un po di tristezza in questo in questo documentario ma chiaramente tutti sappiamo che michael schumacher in questo momento affronta un momento affronta un periodo difficile molto difficile per lui e la sua famiglia bene quindi dicevo o dicevo di questa notizia sul moto gp non ho guardato il moto gp oggi pomeriggio ho dimenticato a dire la verità questo fine settimana questo moto gp da quando valentino rossi è deciso di ritirarsi il mio come dire sono un po deluso e quindi il mio interesse per il moto gp è un po diminuito ma questa settimana c'era il moto gp di san marino di questo piccolo stato dentro l'italia che però si corre su un circuito italiano praticamente sul circuito di imola questo questo no perdonatemi non è nel circuito di imola scusate nel nella pista di misano misano adriatico questo moto gp si è concluso bene ha vinto un italiano su una moto italiana quindi ha vinto bagnaia su una ducati adesso lui è secondo nella classifica mondiale dietro una moto giapponese una yamaha guidata da fabio quartararo che è un francese un pilota francese due giovani molto forti che sicuramente hanno un grande futuro in questo sport speriamo che il pilota italiano sulla moto italiana possa alla fine vincere il mondiale altra buona notizia dello sport italiano la nazionale di pallavolo maschile italiana ha vinto gli europei di pallavolo appunto ha battuto per 3 7 a 2 la slovenia e ha conquistato questo importante campionato campionati europei quest'anno sono tutti per l'italia campionato europeo di calcio campionato europeo di pallavolo campionato europeo di pallavolo femminile molte medaglie all'olimpiade insomma lo sport italiano in questi mesi in questo anno davvero va molto molto bene quindi grazie ai ragazzi della pallavolo per questa bella soddisfazione altra notizia di calcio anzi prima la tredica oggi c'è stata la maratona a roma l'ho scoperto ieri non ricordavo la data ma oggi era il giorno appunto di questa gara che si svolge nella capitale e hanno vinto due keniani nella corsa maschile e nella corsa femminile entrambi gli atleti erano keniani il tempo per il vincitore è di due ore 8 minuti 23 secondi un tempo davvero davvero incredibile io in due ore e 30 corro la metà quindi per me questi sono extraterrestri a premiare il vincitore i vincitori la sindaca di roma virginia raggi prima o poi anche io correrò la mezza maratona a roma o forse chi lo sa beh sicuramente proverò la mezza maratona ma poi perché mettersi i limiti potrei anche un giorno spostare l'obiettivo un po più lontano vedremo vedremo ultima notizia riguarda sempre lo sport il mio milan pareggiato con la juventus questa è una partita importante tra due big come si dice tra le due tra due squadre molto importanti juventus e milan sono squadre con molta storia e quindi un pareggio è un buon risultato perché la juventus è una squadra molto forte bene per il mio milan speriamo bene che questo campionato sia un buon campionato per la mia squadra tutto qui solo sport oggi non c'è molto altro da aggiungere vediamo quindi il il bollettino del covid podcast diventa molto lungo altrimenti 3838 positivi 26 vittime ancora tante ma in diminuzione ieri erano quasi il doppio 51 e anche i positivi erano di più 4578 siamo a un tasso di positività dell'1 e 45 per cento ieri era 1 e 28 questi numeri sembrano buoni speriamo di tenere questo questa media perché io sono stanco di chiusure e vorrei un autunno e un inverno senza chiusure senza lockdown con la possibilità di spostarmi sarebbe un disastro se questo non fosse possibile davvero un disastro quindi speriamo che l'aumento dei vaccini sia un fattore importante per questo 82 milioni 377 le dosi somministrate praticamente 41 milioni di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale siamo quasi al 76 per cento ma l'obbligo del green pass per andare al lavoro ha sicuramente dato una grande spinta alla campagna di vaccinazione in questi giorni infatti molte persone hanno prenotato un vaccino quindi questa questa idea di obbligare le persone ad avere il green pass per il lavoro forse ha ottenuto il suo scopo cioè quello di spingere le persone a vaccinarsi come ho detto tante volte su questa su questa cosa non ho una posizione precisa non sono sicuro su cosa sia giusto o meno però sicuramente mi fa piacere che aumentino i vaccinati e questo è un dato certo insomma vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e speriamo che tutto vada bene davvero tutto qui per quanto riguarda le notizie a questo punto quindi possiamo chiudere con le nostre rubriche e cominciamo con gli anniversari un anniversario riguarda proprio il milan e anche l'inter perché in questo giorno il 19 settembre di moltissimi anni fa è stato inaugurato lo stadio di milano il famoso san siro nel 1926 con una partita amichevole cioè quindi non per il campionato una partita amichevole tra milan e inter milano ha inaugurato il suo stadio il san siro quindi anniversario da ricordare ma praticamente solo per me forse a voi non interessa molto compre anni compre anni se ce n'è ce ne sono un paio di cui vi voglio parlare uno o due non mi ricordo ma uno sicuramente è importantissimo è l'anniversario perché purtroppo questa famosa attrice è scomparsa è l'anniversario della nascita di mariangela melato nata nel 1941 quindi esattamente 80 anni fa mariangela melato è stata una grandissima attrice italiana molto molto popolare e molto amata dal pubblico italiano un un altro compleanno che è un anniversario che voglio ricordare quello di un eroe civile nel senso un cittadino comune che si è trasformato in un martire nella lotta contro la mafia parlo di giancarlo siani che è stato un giornalista italiano nato nel 1959 morto molto giovane a soli 26 anni per il suo impegno nella lotta contro la camorra la camorra lo ha ucciso come spesso ha fatto con tante persone come lui quindi mi fa piacere ricordare questo se questo eroe possiamo chiamarlo così che ha continuato a fare il giornalista nonostante le minacce nonostante il rischio di morte e che lo ha fatto così giovane poteva godersi la vita ma ha deciso di impegnarsi per migliorare la sua città e purtroppo ha pagato con la vita un omaggio quindi a lui e a questa sua triste triste fine bene con questo è tutto per quanto riguarda anniversari e compleanni direi di passare la alla rubrica finale quella della forisma quella della della frase celebre e quindi anche oggi mi propongo una frase famosa o comunque una frase di qualche personaggio italiano famoso una frase da ricordare a volte bene la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa sono i fallimenti che ti insegnano la pazienza la costanza la precisione e la cura necessaria in quello che fai una frase che condivido molto personaggio è contemporaneo personaggio molto simpatico che io amo molto e che ovviamente è il personaggio misterioso di oggi quindi voi dovete trovare il suo nome e quando lo trovate vi consiglio di dare un'occhiata a quello che ha fatto oggi non ho usato una formula tipica del mio podcast la uso in chiusura e vi faccio una domanda siete riusciti a starmi dietro siete riusciti ad acchiappare qualcosa o qualche nuova parola qualche nuova espressione siete riusciti a capire tutto quello che ho detto o almeno la maggior parte beh io spero di sì se volete commentare il podcast con le risposte mi fa piacere ma io vi invito a riprovare domani quindi ad ascoltarmi anche lunedì 20 settembre e però per il momento è tempo di andare a dormire quindi io vi saluto e ciao a tutti a tutti